Dieci alberi piantumati è simbolo della necessità di parlare dei temi ambientali con atti concreti e non solo con le parole. È stato questo il senso del gesto che questa mattina D'Andrea ha portato alla piantumazione di dieci carrubi all'interno del Parco della Concordia, dedicato alla memoria del Cardinale Ursi, grazie all'iniziativa voluta dal Rotary Club Castelli Svevi e dalla presenza di autorità civili e religiose, oltre che del governatore del distretto 21-20 di Puglia e Basilicata, Giovanni Lanzillotti. La presenza nella società è un momento importante di crescita per le future generazioni. Noi stiamo cercando anche attraverso i giovani di sensibilizzare a questo e parliamo anche di territorio, quindi il nostro territorio, perché parlare di ambiente si parla di territorio e quindi ci caliamo nel territorio proprio per la tutela, la promozione di questo nostro territorio, la riqualificazione anche delle nostre città e di tutto il resto. Un albero per ogni socio dei club rotariani del mondo, 1.200.000 nuovi alberi in questo anno, un'iniziativa ambiziosa voluta dal presidente del Rotary International, Ian Risley, che punta a sensibilizzare su ogni singolo territorio ed attraverso un gesto semplice ma efficace sul tema ambientale e sulla necessità di restituire ai giovani il bisogno di salvaguardare il creato. Lasciare a chi viene dopo di noi un mondo più verde, questo è il nostro motto per cui la piantumazione degli alberi oggi ha questo significato. Soprattutto l'intento di farlo nel Parco della Concordia, che è intitolato un illustre figlio di questa città, il Cardinale Ursi, voglio dire ci riempie d'orgoglio e rinnova la memoria di questo grande figlio di Andrea. Una breve cerimonia alla presenza dei familiari del Cardinale Ursi, a cui il parco è intitolato Prelato Andriese, che per 21 anni è stato la guida dell'importante diocesi di Napoli. Il Parco della Concordia infatti è stato al centro di lavori di riqualificazione ormai diversi anni fa e potrà ora contare su nuovi arbusti da custodire. Ciascuno di noi si deve preoccupare di tutelare l'ambiente e di tutelare il patrimonio comunale che non appartiene all'amministrazione un singolo, appartiene all'intera comunità cittadina. Quindi tutto ciò che appartiene a tutti appartiene a ciascuno di noi e su questo dobbiamo senz'altro impegnarci con opere di sensibilizzazione o campagne di sensibilizzazione come quella che sta facendo con un gesto concreto il Rotary Club. Grazie a tutti.